Ciao ragazzi qui è Andrea Milani dal canale World of Conscious e finalmente direi benvenuti in questo nuovissimo video Parto subito dal presupposto ragazzi che per voi è passato soltanto un mese dall'ultimo video che voi avete visto su questo canale Ma per me ovviamente che sono io quello che porta avanti questo canale, essendo ovviamente il proprietario di questo canale Sono passati in realtà tre mesi da quando io non registro un video, magari non edito un video Quindi ragazzi se magari voi vedrete un video con una qualità nella media Ovviamente si è colpa mia che dovevo un attimo prepararmi Però ragazzi non fateci tantissimo caso, fate caso soprattutto a quello che sto per dirvi Inizio subito dicendo, scusa a tutti quelli che ovviamente hanno guardato questo video che vi lascio sopra nelle schede Che addirittura io avevo preparato al mio pubblico un anno di inattività su questo canale Per colpa di un mental breakdown che veramente non riuscivo a togliermi dalla testa Dopo tutte le varie cose che sono successe, soprattutto dopo tutte quante le terapie che io avevo fatto Per togliermi diciamo questo enorme pensiero buio e cupo dentro la mia testa Finalmente sono tornato da praticamente tre mesi, quasi quattro addirittura contando i primi giorni ovviamente di febbraio Come sicuramente voi avrete notato il canale non si chiama più World of Conscious ma si chiama World of Music Perché dopo aver finito di fare tutte queste terapie mi sono sia fatto ovviamente un esame di coscienza E sia una preparazione di quelli che saranno i nuovi contenuti rivoluzionari di questo canale per questo 2021 Perciò ci tengo tantissimo che voi ascoltiate queste parole Prendendo tutte le varie critiche che mi sono state fatte nel corso della mia carriera su YouTube Per quanto ricordo ovviamente il canale World of Conscious che da adesso in poi ovviamente il nome del canale cambierà E che appunto se io voglio portare delle recensioni mi devo basare soltanto su un topic e basta sulle recensioni Prendendo ovviamente tutte queste critiche e vedo che effettivamente c'è un motivo se dopo alla fine ho avuto queste critiche Quindi ho capito che effettivamente il vero problema sta ovviamente nella scelta dei contenuti Che ovviamente io un giorno recensisco quel contenuto là, un giorno ne recensisco un altro E quindi credo che sia doveroso che io scelga appunto un topic in particolare Per ovviamente non catturare diverse community Perché ovviamente se io un giorno faccio un video su rap Dopo prendo quel grandissimo pubblico che è appassionato di questo genere Che è iscritto al mio canale per questo Dopo alla fine un giorno faccio una recensione videoludica Che nonostante le mie recensioni videoludiche abbiano tantissimo successo Comunque ragazzi c'è sempre il fatto che prendere due community diverse Che soprattutto ti segue per quel contenuto Quando in realtà tu vuoi portare anche altro È un casino perché tu non riesci praticamente a stabilire il tuo canale Perciò ragazzi il mio canale si baserà sulla musica non soltanto rap Ma sulla musica in generale Perché ovviamente dire che tu ne sai tanto di musica Non implica alla quantità di rapper che tu conosci Dato che io oltre al rap sono anche ovviamente un grandissimo appassionato della musica Quindi se per caso voi siete utenti Che magari voi siete interessati A sapere tantissime cose riguardo al mondo della musica Tutte le vostre domande verranno appunto Presi in considerazione sul canale World of Music Ovviamente ragazzi tutti gli altri video di recensioni riguardo al mondo dell'animazione E anche del mondo dei videogiochi Non verranno né messi privati Ma non verranno neanche cancellati Verranno semplicemente messi in non elenco E voi tramite ovviamente una playlist Che metterò ovviamente nell'elenco delle playlist pubbliche sul canale Potrete tranquillamente rivedere tutti quei video che sono usciti Ovviamente riguardo recensioni del mondo dell'animazione e del mondo videoludico Qui dal vostro World of Conscious è tutto Anzi dal vostro World of Music dovrò farci l'abitudine anch'io di chiamarmi così È tutto E ovviamente ragazzi noi ci vediamo all'un prossimo video E soprattutto ragazzi Quando io dico ci vediamo all'un prossimo video Non sceglierò ovviamente il giorno E ho capito anche che il mio problema è che Devo smettere di fare promesse Che poi alla fine non so mantenere Quindi ragazzi noi ci vediamo alla prossima Da World of Music ovviamente Iscrivetevi al canale Ciao Ciao Grazie a tutti.